Parliamo con la professoressa Elisabetta Nigris che è docente di progettazione didattica e valutazione presso l'Università di Milano Bicocca e che ha coordinato in questi mesi il gruppo di lavoro istituito dal Ministero sulla valutazione nella scuola primaria. Praticamente la professoressa Nigris ha coordinato il gruppo che ha dato vita alle linee guida che accompagnano la ordinanza ministeriale, quella che sta entrando in vigore proprio in queste settimane. Allora con la professoressa Nigris facciamo un po' il punto della situazione e vediamo un po' di capire come ci si deve muovere in questa fase. Professoressa intanto il primo dato è questo, proprio l'11 di gennaio sono iniziate le attività di formazione rivolte ai dirigenti scolastici e agli insegnanti. Lei ritiene che davvero questa fase di formazione sia importante, sia essenziale per avere un buon risultato dell'intera operazione? Buongiorno intanto, grazie dell'intervista. Io credo che qualsiasi cambiamento nella scuola e qualsiasi riforma richieda un percorso, un processo di formazione con tempi lunghi in tutti i paesi d'Europa, anzi le grandi riforme a volte riescono a essere anticipate dalla formazione, in altri casi sono accompagnate. Ecco, io sono molto contenta che al gruppo di lavoro che ho coordinato sia stato chiesto proprio non solo di formulare le linee guida ma di seguire tutto il percorso di formazione. Si sta chiedendo un grande cambiamento alla scuola, un cambiamento di prospettiva, un cambiamento di procedure, un cambiamento di documenti, un cambiamento di rapporto con i bambini e con i genitori e quindi io credo che sia necessario aiutare gli insegnanti a fermarsi a pensare cosa possono valorizzare del loro lavoro fatto finora e a capire insieme confrontandosi come modificare le procedure di valutazione per andare verso quella che viene definita la valutazione di tipo descrittivo. La valutazione di tipo descrittivo chiede anche di ripensare in un certo senso il modo di progettare l'azione didattica o comunque di interrogarsi sulla coerenza fra il tipo di valutazione che io utilizzo e il modo che ho di lavorare in classe. Parlare di valutazione descrittiva vuol dire che io a maggior ragione cerco degli strumenti per andare a ritrovare le evidenze degli apprendimenti dei bambini ma in quello che io veramente faccio in classe con loro. Questo percorso di valutazione inizia come diceva giustamente lei lunedì con incontri per gli insegnanti e per i dirigenti, per gli insegnanti ce ne sarà uno lunedì e uno martedì, ne seguiranno altri aperti a tutti gli insegnanti, io ci ho tenuto che sin dalla progettazione tutte queste iniziative fossero aperte a tutti gli insegnanti che volevano partecipare perché credo che i destinatari siano, anzi i destinatari sono gli insegnanti e quindi credo che veramente vadano tenuti in grande considerazione. Ecco ma a proposito di attività formative, allora lunedì 11 martedì 12 ci sono questi incontri con dirigenti e insegnanti però qualche cosa è già stato fatto nei giorni scorsi con gli uffici scolastici regionali, di che cosa si tratta? Nei giorni scorsi noi ci siamo incontrati con l'ufficio, gli uffici scolastici regionali di tutte le regioni e con i referenti per la valutazione dei diversi uffici scolastici per progettare la valutazione a livello territoriale, quindi questa formazione che adesso stiamo offrendo aperta a tutti di tipo più frontale anche se corredata da analisi di esempi, presentazioni di esempi, dovrà essere seguita da una formazione più capillare in cui si farà anche proprio un'attività laboratoriale con i docenti per imparare insieme a sperimentare questi nuovi strumenti. È chiaro, gli insegnanti possono essere in parte spaventati come si è sempre un po' di fronte alle novità, soprattutto per chi magari appunto non ha ancora sperimentato per esempio l'uso di strumenti valutativi di tipo qualitativo. Ci sono insegnanti che anche dando i voti già utilizzavano l'osservazione, già utilizzavano l'analisi dei prodotti fatto in un certo modo, piuttosto che l'analisi delle conversazioni. Per chi ancora non l'ha fatto ci vuole il tempo necessario per entrare in un mondo nuovo e a poco a poco impraticirsi di questo mondo, familiarizzare con questi strumenti nuovi, conoscerli e imparare a conoscere veramente le potenzialità. Perché io credo che questo tipo di valutazione ti aiuti davvero a vedere molto di più a 360 gradi quello che può fare un bambino, quello che fa e quello che può fare un bambino e di anche più soddisfazione agli insegnanti perché davvero ti dà un riscontro maggiore degli apprendimenti dei bambini. Senta professoressa però c'è un problema, dai riscontri che noi abbiamo gli insegnanti sono molto preoccupati perché dicono giustamente il tempo a disposizione davvero poco, siamo quasi alla metà di gennaio, fra due tre settimane siamo alla fine del primo quadrimestre, dobbiamo già fare la nuova scheda di valutazione e non ce la facciamo. Ecco c'è un po' di preoccupazione, lei che cosa può rispondere su questo? Cosa si può fare concretamente per rispettare la norma di legge ovviamente ma anche per evitare di fare delle cose affrettate che poi porterebbero in futuro anche a esiti poco gradevoli? Ma io voglio innanzitutto tranquillizzare gli insegnanti perché quando si pensa a grandi cambiamenti, a riforme così profonde non si può pensare che possano essere attuate in breve tempo. Giustamente la norma di legge per forza chiede proprio per definizione che una legge sia applicata da subito, nello stesso tempo io credo che le scuole debbano cominciare da quello che già fanno e che va nella direzione che noi abbiamo cercato di indicare. quindi iniziare dalla progettazione e da quello che hanno messo a fuoco degli obiettivi per riuscire a individuare uno massimo due obiettivi su cui hanno lavorato e su quelli pronunciarsi senza pretendere di fare tutto subito perché la gattina frettolosa fa i gattini ciechi e comunque sarebbe una richiesta anche ingiusta e impossibile nei confronti degli insegnanti. D'altronde se uno comincia a imparare una lingua nuova non si pone l'obiettivo subito di tradurre Shakespeare, comincia a dire le frasi che riesce a dire. Quindi veramente iniziare da poco ma cercando già di andare nella direzione di pensare alla valutazione come un processo circolare con la progettazione che parte dalla formulazione degli obiettivi. Questo secondo me è la cosa più importante. Poi si imparerà anche a usare altri strumenti che non non possono essere stati usati a ritroso. Senta professoressa c'è ancora un punto che vorrei toccare con lei ed è il rapporto con i genitori. Ci vorrà anche del tempo per spiegare ai genitori in che modo cambieranno le cose su questo tema e quindi gli insegnanti avranno anche un po' questa funzione, cioè di fare un po' da interpreti rispetto ai genitori del cambiamento. Sì, è un problema reale ed è uno scoglio per molti insegnanti ma è anche un obiettivo. Diciamo che l'insegnante è sempre un interprete del mandato della scuola rispetto ai genitori. Questo fa parte della sua professionalità e interprete anche di quello che fa coi bambini che presenta nelle riunioni quando racconta agli insegnanti la programmazione e la progettazione di quello che proporrà in quella classe a quei bambini in quell'anno. È chiaro che come in quel caso va cercato un linguaggio comprensibile ai genitori, vanno rassicurati i genitori e soprattutto diciamo non vanno fomentati di sicuro. e vanno accompagnati per capire che questo tipo di valutazione dirà molte più cose dei loro bambini anche a loro. Io lavoro da 15 anni almeno con insegnanti che già usano questo tipo di valutazione almeno in itinere e mi hanno raccontato più di una volta quanto un genitore si stupisce se gli fai vedere qualche cosa che hanno detto veramente i loro bambini per esempio in una discussione in un lavoro di gruppo o che i bambini hanno detto di sé e di come pensano di aver imparato o di cosa pensano di non aver imparato. I genitori dicono ma no questo non è mio figlio perché veramente si stupiscono anche di potenzialità che non credono che abbiano i loro figli oppure anche nello scoprire che magari hanno qualche ombra che il loro figlio amato non pensano che abbia. Lo dico da mamma ogni scarafone bello mamma sua ma non sempre facile per un genitore veramente vedere quello che invece un insegnante può vedere a scuola. I bambini vanno a scuola proprio perché fanno delle cose e mettono in gioco una parte di sé diversa da quella che mettono in gioco a casa perché se no si farebbe scuola a casa. Non la si fa perché è importante perché il contesto pubblico permette al bambino di giocarsi altre parti di sé, altre potenzialità e soprattutto di acquisire strumenti che a casa nostro non acquisirebbe. Non so se ho risposto alla domanda. Effettamente direi che ha risposto a questa domanda e anche alle altre. Noi la ringraziamo della sua disponibilità, ci auguriamo di poterci incontrare ancora nuovamente per parlare magari di aspetti specifici. La ringraziamo davvero e auguriamo a lei e alla Commissione buon lavoro. E grazie a voi che ci aiutate a portare avanti l'accompagnamento. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie a tutti